quando sono entrato musulmano ho detto io devo fare qualcosa per far conoscere l'islam in italia perché io sono in italia perché tutti sono contro l'islam però devo prendere una posizione per rafforzare quello che dico e ho fatto Allah subhanahu wa ta'ala un'altra doa fino a quando subhanallah in un incontro internazionale c'erano ministri, c'erano diplomatici io ho fatto un discorso come musulmano italiano perché io sono molto orgoglioso di essere musulmano e non mi nascondo mai di esserlo voglio portare questo messaggio agli altri voglio fare vedere che qualsiasi persona musulmana può portare questo messaggio allora in questo incontro ho parlato ieri dei rapporti che ci devono essere tra i cristiani e i musulmani e c'ero un ministro del parlamento per la pace che mi ha convocato dopo e mi ha detto tutti hanno parlato ma tu mi sei entrato nel cuore quello che tu dici è quello che io voglio l'unione della gente allora io ho fatto doa questo è un parlamento internazionale per la pace vorrei entrare in questo parlamento e non è facile entrare e questo non è facile dopo tanto doa Allah subito mi hanno nominato ambasciatore e ministro allora io ho detto adesso devo utilizzare la mia posizione per il bene dell'islam allora quando il papa ha fatto una dichiarazione in Germania ha detto che l'islam si è propagato con la guerra ed è stato mal interpretato io ho chiamato Roma una persona vicino al segretario del papa e io ho detto se è un musulmano della strada o se è un cristiano della strada dice questo non ci sono problemi ma se il mufti dell'Arabia Saudita del Kuwait in Egitto o in Maser dice questo o il papa che rappresenta la cristianità del mondo questo invece di creare l'amore e rispetto la pace crea guerra disunione odio e noi non siamo qua per spargere l'odio io ho molti amici cristiani e sono i nostri fratelli e vengono da Adam e noi dobbiamo in questo momento essere molto uniti allora il papa dopo 20 giorni da questo ha convocato tutti gli ambasciatori musulmani a Roma e io ero molto contento da questa cosa qua e volevo che l'Arabia Saudita vedete io sono molto attaccato all'Arabia Saudita perché sono rinato in Arabia Saudita io ho l'Arabia Saudita ma in questo momento non sono muslim mi sono disminati all'Ara subhano all'Arabia Saudita E' un po' molto forte, non c'è una misura, non c'è una misura, non c'è una misura. E ogni volta che erano a un paese di un paese di arabia, muslima, subhano allah, Allah subhano al-Tahala ha detto, «Ella la salata, ella la falata». «Ella la falata». Alla subhano al-Tahala, «Ella è una cosa che si chiama il trazione, non si chiama il risultato, non si chiama il risultato. E io subhano allah, e subhano allah والله voglio che insieme tutti i muslimi in giù i muslimi e come era arrivato alla Mekra o alla Hid e mi muslimo che in ho fatto questo è un tempo e è un tempo che in chiudere è una misafir di quel mondo e magari è un modo di essere in un momento di d'agrazione allo di Tunesi, Maghribi, Maghribi, Turchia, e d'agrazione allo di pakistanci, l'himmeria e l'himmeria, l'himmeria e l'himmeria. e d'agrazione allo la mia amera 10 mesi, e un mera due un'altra parte un'altra parte l'anno scorso l'anno scorso con le persone con le persone con le persone se ne so che il ramadano non c'è il roma non c'è il roma non c'è il roma se ne so che il ramadano è un'altra parte mi piace una accettazione e un'attive e un'attive e un'attive e un'attive non c'è un'attive non c'è un'attive un'attive i c'è un'attive le maizare e non c'è un'attive che vuoi dire Ma cosa ti chiede per i muslimi? Ma cosa ti chiede per i muslimi? Ma cosa ti chiede per i muslimi?